ciao e benvenuto nel mio nuovo video io sono giampiero teresi sono l'autore del libro regime forfettario 2020 ma sono soprattutto l'autore del blog regime trattino forfettario punto it che è un blog di natura fiscale dove parlo del mondo delle partite iva parlo soprattutto del regime forfettario da alcune settimane ho iniziato una serie di video specifici punto appunto su alcune attività dove vado a indicare tutti quelli che sono i passaggi burocratici a dover effettuare per poter lavorare in regola con il fisco oggi voglio parlare di una delle attività più diffuse soprattutto negli ultimi anni c'è l'attività da youtuber e dunque cosa deve fare uno youtuber per poter lavorare in regola col fisco e dunque poter dichiarare i propri incassi allo stato inizio subito dicendoti che non sempre è necessaria l'apertura di una partita iva in alcuni casi può essere utilizzata un altro strumento fiscale si chiama prestazione occasionale che permetterà quindi di poter lavorare in regola col fisco mettendo queste ricevute di prestazione occasionale la prestazione occasionale però ha alcuni limiti primo fra tutti un limite temporale la prestazione occasionale non può essere utilizzata per prestazioni che durano più di 30 giorni consecutivi durante l'anno e ha anche un limite di occasionalità la prestazione occasionale può essere utilizzata una tantum per cui al massimo una volta l'anno con ogni singolo committente se deciderai di lavorare più volte l'anno con lo stesso committente non potrai più utilizzarla sarai quindi obbligato all'apertura di una partita iva una terza un terzo limite secondo me quello più importante è vietato pubblicizzarsi chi utilizza la prestazione occasionale non può pubblicizzare in alcun modo la propria attività non potrà quindi avere un bigliettino da visita non potrà avere dei volantini non potrà avere un proprio sito personale non potrà avere una pagina facebook che pubblicizzi appunto la propria attività però se dovessi in ogni caso rientrare all'interno di questi parametri di questi limiti ti sarà consentito utilizzare la prestazione occasionale in questo caso dovrai rilasciare una ricevuta di prestazione occasionale la ricevuta di prestazione occasionale è un modello che potrai trovare facilmente su internet o se dovessi averne bisogno potrai richiederlo anche a me è molto simile alla fattura però al posto di inserire la tua partita iva andrà a indicare semplicemente quello che il tuo codice fiscale all'interno della prestazione occasionale sarà presente la ritenuta da conto del 20% in pratica il 20% dei tuoi compensi saranno trattenuti dal tuo committente che li tratterrà e li verserà allo stato come anticipo sulla tua tassazione l'anno successivo per cui tra febbraio e marzo il committente stesso da sostituto di imposta ti rilascerà appunto una certificazione unica c'è un documento attestante l'avvenuto versamento di questa ritenuta da conto del 20% dovrai prendere poi questa certificazione unica portarla al tuo commercialista oppure portarla all'interno della tua dichiarazione di erediti che sarà appunto il modello unico quindi nel caso in cui tu però voglia pubblicizzare in qualsiasi modo la tua attività voglia lavorare più di 30 giorni consecutivi durante l'anno o lavorare più volte l'anno con lo stesso committente sarai obbligato ad aprire una partita iva in questo caso quello che ti consiglio è sicuramente quello di scegliere il regime forfettario questo perché questo regime ti darà una serie di vantaggi innanzitutto una tassazione più bassa perché le tasse sono pari al 5 per cento per i primi cinque anni diventano poi 15 per cento dal sesto anno in poi un altro vantaggio è che non avrai l'iva per cui quando emetterai una fattura ad esempio da 100 euro non sarà 100 più iva ma sarà 100 punta e basta proprio perché l'iva non c'è non avrai neanche la ritenuta d'acconto per cui incasserà il cento per cento dei tuoi compensi senza alcun tipo di trattenuta avrai un limite di fatturato da rispettare che dal 2019 è stato innalzato 65 mila euro annuali se un giorno dovessi superare questo limite poi uscirai fuori dal primo gennaio dell'anno successivo dal regime forfettario oltre alle tue tasse dovrai anche provvedere al versamento dei tuoi contributi previdenziali tutti coloro che sono dei liberi professionisti come ad esempio uno youtuber ma che non ha un albo di appartenenza allora deve versare i propri contributi previdenziali alla cosiddetta gestione separata inps la gestione separata inps ha una percentuale che pari al 25 virgola 72 per cento ma ha la fortuna di non prevedere alcun costo fisso minimale da versare immagina che se tu fossi stato un commerciante o un artigiano avresti dovuto versare una quota fissa di contributi in se pari a circa 3.600 euro annuali anche se non fatturavi nulla nella gestione separata non sarà così quindi se fatturerai pagherai una quota di tasse una quota di contributi se non dovessi fatturare nulla non avrai nulla da pagare spiegato adesso il funzionamento delle tasse dei contributi previdenziali possiamo provare a fare una stima di quante tasse di quanti contributi dovrà pagare uno youtuber ipotizziamo adesso ad esempio che tu dovessi fatturare in un anno 10.000 euro di questi 10.000 euro non tutti saranno tassati ma soltanto il 78 per cento questo perché lo stato ipotizza che la restante parte per cui il 22 per cento tu l'abbia speso per la tua attività quindi non ti verrà tassato quindi su 10.000 euro 2.200 euro non ti verranno tassati e non dovrai neanche calcolarci i contributi su questa quota sulla restante parte per cui sul 78 per cento su 7.800 euro ci andiamo a calcolare sia le tasse del 5 per cento sia i contributi del 25,72 per cento questo è un po' il calcolo da fare per poter stimare le tue tasse e i tuoi contributi passiamo adesso a un altro argomento per cui come aprire partita iva da youtuber allora tutte le attività professionali hanno un grande vantaggio possono aprire la partita iva in modo totalmente gratuito semplicemente compilando la giusta la giusta documentazione che è il modello a 912 e che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrai poi presentarlo presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate l'attribuzione della partita iva è immediata per cui immediatamente l'agenzia delle entrate ti rilascerà il tuo numero di partita iva all'interno di questo modello a 912 dovrai andare a inserire alcuni dati innanzitutto i tuoi dati personali per cui i tuoi dati fiscali di residenza la tua sede dell'attività che attenzione potrà essere anche la tua residenza o il tuo domicilio poi dovrai andare a scegliere il tuo regime fiscale ti ho parlato del regime forfettario ma esistono anche il regime ordinario semplificato da prendere in considerazione e poi dovrai andare a inserire il tuo codice a teco il codice a teco non è altro che un codice da sei cifre che specifica e descrive l'attività che vorrai andare a sviluppare nel caso dello youtuber il codice a teco da andare a inserire nel modello a 912 è il codice 73.11.02 ok adesso passiamo invece all'ultimo argomento cioè cosa posso fare per te come ti ho già detto io sono specializzato nel regime forfettario ho sviluppato questo servizio di contabilità completamente online per tutti coloro che sono liberi professionisti e che vogliono aprire una partita iva in questo particolare regime di vantaggio il mio servizio ha una tariffa che di 39 euro al mese già comprensivi di iva e io mi occupo di tutto mi occupo dell'apertura della partita iva mi occupo della gestione della contabilità mi occupo dell'invio della dichiarazione dei redditi che il passaggio più importante offre a tutti i miei clienti un'assistenza telefonica 365 giorni l'anno tramite il mio numero di telefono personale al contrario di tutti i commercialisti classici che di solito si occupano di svariate materie come di regime ordinario regime semplificato contabilità di aziende di società di srl di diritto del lavoro di diritto tributario io ho deciso di specializzarmi assolutamente esclusivamente sul regime forfettario tramite il mio servizio faccio tutto quello che fa di solito un commercialista ma lo faccio completamente online e non sarà mai necessaria la tua presenza fisica come primo passo quindi aprirò la tua partita iva dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture ti fornirò quindi un prospetto in excel che servirà ad emettere tutte le fatture nel forfettario le prime le compileremo insieme ti farò vedere come fare dopodiché ci sentiremo una volta al mese per aggiornare tutta la contabilità mi invierai quindi via mail le tue fatture messe eventuali acquisti e io porterò tutto in contabilità e infine una volta l'anno tra maggio e giugno invierò la tua dichiarazione di erediti da lì verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse dei contributi previdenziali e quindi ti invierò i modelli f24 già pre compilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi questa è un po la routine che svilupperemo ogni anno se dovessi avere qualsiasi altro dubbio sul regime forfettario sul funzionamento del mio servizio di contabilità il mio sito lo conosci si chiama www.regime-forfettario.it all'interno di questo sito c'è un form di contatto che potrai compilare con i tuoi dati per cui il tuo nome il tuo cognome il tuo numero di telefono la tua mail e sarò io stesso a richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi inoltre vorrevo informarti che ho un gruppo facebook si chiama regime-forfettario.it consigli utili è un gruppo formato ormai da più di 9500 persone ai quali rispondo quotidianamente sui vari dubbi sulle varie tematiche fiscali per cui iscriviti sul gruppo e se hai bisogno chiedimi pure una consulenza gratuita a presto